Il Senato ha ospitato la prima premiazione delle 21 sagre di qualità individuate dall'UMPLI, l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia. La certificazione è stata ottenuta dopo l'esame di una commissione UMPLI, chiamata a valutare l'effettivo legame delle manifestazioni con i prodotti del territorio e la storicità di almeno 5 anni delle sagre. La sagra di qualità vuol dire elevare a manifestazione di eccellenza i nostri eventi sul territorio, partendo da un presupposto, la valorizzazione del prodotto tipico per valorizzare il nostro patrimonio turistico e rurale di ogni località. La presenza oggi del Presidente del Senato l'Onorevole Casellati ci ha dato un grande riconoscimento e ha dato veramente un input fortissimo a tutte le nostre associate, a tutti i volontari che con fatica portano avanti nel proprio contesto i valori della nostra tradizione e i valori delle Proloco. Verona Fiere consolida la propria presenza in Brasile con 4 eventi in calendario tra agosto e settembre. A Vittoria Verona Fiere do Brasile organizzerà le manifestazioni McShow, Salone della Metalmeccanica, delle Energie e dell'Automazione, ed Expo Costru South, Fiera delle Costruzioni. Poi il tradizionale appuntamento con Fiera Internazionale del Marmo e del Granito. E dal marmo si passa poi al vino e all'enomeccanica con la seconda edizione di Wine South America. Enia ha avviato la produzione nel permesso di Southwest Meleia nel deserto occidentale egiziano. La produzione attuale di 5.000 barili di olio al giorno è garantita da due pozzi produttori e salirà a 7.000 barili al giorno entro settembre 2019. Le scoperte a olio nel permesso Southwest Meleia sono state effettuate nel 2018 e nella nuova area è stata pianificata una campagna di perforazione di nuovi pozzi esplorativi su altri prospetti situati nelle vicinanze. Anche le strade soffrono il caldo. Per allentare l'azione aggressiva della temperatura basta scegliere una pavimentazione che possa rinfrescare la propria superficie. Si tratta di calcestruzzi che combinano superficie a elevato potere riflettente che possono contrastare le isole di calore. Dai propositi si è passata agli studi sperimentali, a cominciare dalle ricerche svolte dai talcementi sul proprio calcestruzzo drenante Idrodrain e dalla sua caratterizzazione realizzata insieme all'Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica, Servizio Residenziale e Terziario di Enea. Essere un attore chiave per la crescita delle imprese grazie alla formazione. Questa è la mission di Fondimpresa che quest'anno ha raggiunto i 15 anni di attività e ha superato le 200.000 imprese aderenti. Fondimpresa è il fondo interprofessionale di confindustria CGL CISL Will. Primo in Italia per numero di aziende e lavoratori copre da solo oltre il 50% del mercato attuale dei fondi interprofessionali.